ci siamo spostati soltanto di pochi chilometri da zafferia all'arderia e la situazione del torrente è quella che vedete e in tanti di voi in tanti lettori hanno commentato che ormai è la normalità quasi senza nessuno stupore per quello che vi mostravamo oggi vi mostriamo un altro torrente questo di l'arderia con una situazione forse ancora più grave a livello di immondizia perché quella alle mie spalle è praticamente una mini discarica più giù ce ne sono altre è una situazione veramente incresciosa che noi ci teniamo a mostrarvi per dirvi che non è questa la normalità o almeno non lo sarebbe c'è anche chi ci ha detto che non puntiamo l'indice contro l'inciviltà dei cittadini ovviamente non è così l'immondizia alle nostre spalle non ci arriva sicuramente da sola è una situazione brutta pessima ci verrebbe da dire che ed è una brutta abitudine che dovrebbe sparire al più presto in ogni caso questa è nel frattempo la situazione dei nostri torrenti nella zona sud continuiamo il nostro tour del torrente l'arderia e abbiamo trovato qualcosa che fa ancora più ribrezzo rispetto a quanto visto prima un'altra mini discarica buste di ogni tipo mangime per animali buste di latte detersivi c'è davvero davvero di tutto e anche dall'altra parte elettrodomestici valigie bottiglie di vario tipo è una situazione veramente impressionante quella che si vive qui al torrente l'arderia ci sono alcuni tratti che sembrano essere stati ripuliti con la strada spianata e senza alcuna busta ci sono poi questi tratti in cui qualcuno continua a gettare la propria immondizia grazie a tutti